Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Che schifo Un bacio in diretta tra le sorelle Moloni E il vogliono Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Oggi facciamo un nuovo video challenge per i 4.000 iscritti Il nuovo video challenge è la challenge Chabbi Banni E la facciamo appunto per lo speciale 4.000 iscritti Perché nel giro di una settimana neanche abbiamo già raggiunto i 4.000 iscritti dei 3.000 E quindi niente, ho tagliato un po' di marshmallow Questi qua sono quelli americani della Lidl E oggi faremo la Chabbi Banni Fallage L'hai voluta fare tutto il ricordo Un Chabbi Banni Inizia te prima Un Chabbi Banni Non devi metterlo in bocca così Non puoi masticarlo No, l'ho messo qua Non puoi masticarlo però Un Chabbi Banni La borsa per scutare Un Chabbi Banni Per chi non lo sapesse è una challenge che devi mettere in bocca un marshmallow E dire un Chabbi Banni, due Chabbi Banni e così via E noi abbiamo preso quelli americani ma li abbiamo tagliati perché erano enormi Un Chabbi Banni Ma ti fai anche a me la borsa? Dai Due Chabbi Banni Ma non devi avvicinare Sì Due Chabbi Banni Tre Chabbi Banni No, non puoi masticare Ma non ho scato Tre Chabbi Banni Una goccia sì, una goccia no Questa Chabbi Banni Ma no, mi sono salendo Cinque Chabbi Banni Ma sei da caso? Quattro Chabbi Banni Questa Chabbi Banni Questa Cinque Cinque Chabbi Banni No, era quello che ho in mano Cinque Chabbi Banni Questa Chabbi Banni Questa Chabbi Banni Questa Chabbi Banni e anche io che sono davvero buoni che schifo che mi non piacciono i cosi no, che sono davvero buoni non riesco a te la nembuca ah, vuoi uno a venta io a venta io, atto contro sei perché ti piace? ma i ciabbi panni vuoi di mangiarti? no non so ma è durata stra poco facciamolo con queste ciabbi panni ok, non so, non è da tante cose bene, con questo è tutto spero che questo video sia piaciuto anche se sono curtino però lei non riesce a tenere in bocca neanche due marcianello perché mi si sciolgono ma non mi piacciono i marcianelli niente, con questo è tutto spero che questo video sia piaciuto e niente vi mando un bacione al prossimo video ciao nessuno lo vuole il tuo bacione ciao ciao